Parliamo un po' del mondo, ovviamente con la tua azienda stai dappertutto, dove tu vedi debolezze nel mondo e dove punti che ci sarà crescita? Da un punto di vista di business ci sono sempre i paesi emergenti che sono la Cina, anche la Russia se non succedono problemi improvvisi, anche gli Stati Uniti in questo momento è un'economia emergente. Noi fortunatamente cresciamo molto anche nei paesi tradizionali, che vuol dire l'Italia, che vuol dire la Francia, la Spagna e la Germania, questo grazie a una politica rigorosa dei nostri prodotti basata sulla tecnologia, sulla qualità, perché in fin di conti Geox crea dei prodotti ONC.